Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. In direzione Firenze per il ripristino di un incidente è chiuso il tratto tra Livorno-Aurelia e il Pidio per la A12. Per questo motivo si sono formati rallentamenti tra Tirrenia e Livorno-Aurelia. E per traffico intenso rallentamenti tra Montelupo e Ginestra e tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze a causa di un incidente il traffico è bloccato in direzione Siena tra l'allacciamento per la A1 e San Casciano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!